La musica aveva trovato un nuovo modo di disegnarsi, di vibrare. Il pianoforte, una nuova voce per confessare i segreti del cuore. Presso questo canale, in una lunga casa bassa a poche miglia da Varsavia, era nato nel 1810 Federico Chopin. Esule a Parigi, i primi concerti, la rivelazione. Quelle frasi dal lungo giro sinuoso, così libere, così flessibili, tale la melodia di Chopin. Malato riparò a Mallorca. Gli era accanto la scrittrice Georges Saint, uno dei periodi più intensamente creativi. Tutto si trasfigurava in canto. Un mattino di pioggia, era nato il preludio della goccia. Un giorno di pioggia cent'anni fa, e lui moriva a Parigi.